Paventata chiusura definitiva dell'ufficio postale di piazza Matteotti a Domodossola. Il sindaco Lucio Pizzi scrive al direttore generale di posti italiane Matteo Delfante. Pizzi spiega. La chiusura degli uffici postali della stazione deprive una città di oltre 18.000 abitanti di un riferimento strategico e di una presenza che si può definire storica. E aggiunge. Le posti di stazione sono una sorta di assioma per la nostra comunità. Domodossola vanta una stazione internazionale con un notevole movimento di persone provenienti dalla vicina Svizzera ma anche da altri paesi europei. La possibilità di avere i servizi di posti italiane nelle immediate adiacenze del sito ferroviario è sempre stato elemento di arricchimento in tutti i sensi, per il contesto cittadino e ha sempre conferito prestigio anche a posti italiane. Il primo cittadino ricorda che in città essi presenta un altro ufficio postale ma in via Romita, zona più decentrata rispetto alla strategica posizione di piazza Matteotti. La chiusura di uno dei due uffici cittadini, sostiene Pizzi, si comporterebbe un pesantissimo aggravi di attività per l'unico sito rimasto operativo con un certo disagio per i numerosi utenti che gravitano sul capoluogo solano, importante punto di raccordo anche per le circostanti valli dell'Ossola. Il sindaco Domese chiede al direttore generale dell'azienda di non privare la città degli uffici di posti italiane nelle adiacenze di piazza Matteotti, proseguendo questo rapporto storico tra la città di Domodossola e il servizio postale, valutando eventualmente soluzioni alternative che possono corrispondere ad una tradizione di servizio così utile e radicata.